In questo video vi mostro come fare uno squisito burro di arachidi. Preparare il burro di arachidi è molto semplice e necessita di un unico ingrediente, le arachidi appunto. Per prima cosa occorre sgusciare una buona quantità di arachidi, io ne ho sgusciate un chilo. Poi mettete tutte le arachidi nel frullatore e frullate. Presto le arachidi faranno fuoriuscire il loro olio naturale e il composto diventerà sempre più umido e cremoso. Frullate fino ad ottenere la consistenza che desiderate. Più cranci, o croccante, o più smuti, quindi cremosa. Gli arachidi sono un legume altamente proteico ed energetico e contengono più acidi grassi insaturi che saturi. Ed ecco il vostro burro di arachidi da gustare come snack o da usare come ingrediente per qualche sfiziosa ricetta. Grazie a tutti.